Dentro a collina Luxury Relais, il nuovo hotel a 5 stelle pronto ad aprire a Clusone, 7 suite, 5 chalet, piscina e spa, ci lavoreranno 35 persone. Accademia dello sport per la solidarietà in prima linea nella lotta contro i tumori, garantirà cure e chemioterapiche a Bergamo per una sessantina di pazienti alla Clinica San Francesco. A Villa Carrara di Villa di Serio in esposizione fino all'Epifania e i presepi, protagonisti ragazzi delle scuole medie con un messaggio di pace rivolto alla Palestina. Buonasera a tutti i telespettatori e bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo l'ampia pagina di cronaca. Un 21enne di Treviglio è rimasto ferito l'altra notte a Bossico durante i festeggiamenti di fine anno in piazza San Pietro. È stato colpito ad un occhio da una scheggia di vetro dopo che un petardo era stato fatto esplodere all'interno di una bottiglia. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce Blu di Lovere che lo ha trasportato in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo. I carabinieri della compagnia di Clusone stanno indagando per ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile. È iniziato in Colonna il pomeriggio dei tanti automobilisti di ritorno dalla Valle Seriana dopo le feste e natalizie. Attorno alle 15 un'automobile è andata in panna nel territorio di Casnigo, lungo la statale della Valle Seriana, dopo essere stata tamponata dall'auto alle sue spalle. Sul posto è arrivato un carro a trezzi insieme alla polizia locale di Casnigo che ha gestito la viabilità. Lunghe colonne si sono subito formate in entrambi sensi di marcia. In particolare la situazione più complicata è stata quella per chi era diretto verso Bergamo, con lunghe code che arrivavano fino a Clusone. L'automobile in panna è stata spostata dalla carreggiata poco prima delle 16. Un pomeriggio di disagi che è proseguito lungo la statale 671 della Valle Seriana, dopo l'episodio appunto nella zona del Ponte del Costone, un incidente si è verificato ad Albino nella Galleria Pradella. Al momento le informazioni sono ancora frammentarie e sarebbero due le persone coinvolte nell'incidente. I soccorsi sono scattati in codice giallo. Sono intervenute l'automedica e due ambulanze della Croce Verde di Colzate e della Croce Rossa di Alzano. In seguito allo scontro la statale è stata chiusa in corrispondenza delle uscite di Cene, Sud e Albino. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Albino a fianco dei carabinieri. Soccorsi in azione la mattinata di Capodanno in Val Camonica per un ragazzo che poco prima dell'alba non era ancora rientrato. Il ragazzo è stato rintracciato, poi dei carabinieri si trovava sotto l'abitato di Cormignano di Vezzo d'Oglio a quota di 1.350 metri. Aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia. La centrale operativa su Reualpi ha attivato la stazione del soccorso alpino di Temù, i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Una volta raggiunto il ragazzo è stato trattato a livello sanitario portato a valle con la barella portantina. L'intervento è poi cominciato poco prima delle 4.30 ed è finito intorno alle 7.00. E sono entrati in azione anche i tecnici del soccorso alpino per recuperare un ragazzo di 19 anni che si è sentito male la notte di Capodanno sopra Val Bondione. L'intervento è scattato attorno alle 3.00. Il ragazzo, stando a quanto riporta l'Agenzia regionale, emergenza, urgenza, avrebbe avuto un malore a causa dell'abuso di alcol. Quattro tecnici appartenenti alla stazione di Val Bondione del soccorso alpino sono saliti subito con un mezzo fuori strada. Hanno valutato il giovane e poi lo hanno accompagnato a valle dove c'era l'ambulanza della Croce Blu di Gromo. Il 19enne è stato poi trasportato all'ospedale di Piario dove è giunto in codice verde. Voltiamo pagina, c'è molta attesa a Clusone non solo per l'apertura della collina Luxury Relais. Il nuovo albergo a 5 stelle realizzato alla collina verde manca un solo mese all'apertura. Abbiamo avuto l'opportunità di visitarlo in anteprima con Nicolò Androletti. È il tardo pomeriggio di Capodanno quando entriamo al collina Luxury Relais. Il sole sta lentamente scomparendo dietro alle montagne e l'alto piano di Clusone è avvolto da una luce tenue. Gli ultimi raggi lambiscono anche il nuovo 5 stelle sulla sommità della collina verde. Ad accoglierci è il direttore Alessandro Uru. Sarà lui a guidare lo staff di 35 persone che tra un mese si prenderà cura dei primi clienti. Ci sono già le prenotazioni dall'Italia ma anche da Estonia, Emirati Arabi, Francia e Inghilterra. Siamo addirittura d'arrivo. Manca ormai un mese tecnicamente all'apertura. L'hotel è completato. Stiamo finendo camere e piccoli dettagli qua e là che comunque sono quelli che richiedono maggior tempo. Diciamo che visto che abbiamo saltato l'apertura precedente che era fissata per l'otto di dicembre e poi per Natale ci siamo presi un po' di tempo e ci siamo concessi tutto questo mese di gennaio per anche formare il personale e essere pronti con un vero servizio a 5 stelle lusso. L'apertura ufficiale, parlo soprattutto delle camere, è prevista per il primo febbraio. Il ristorante potrebbe anche anticipare di qualche settimana. C'è attesa per questo albergo voluto dall'imprenditore Luciano Verzeroli, titolare della Vemec, insieme alla sua famiglia. Sarà l'unico 5 stelle della Bergamasca con l'ambizione di attirare sull'altopiano clientela soprattutto dall'estero. Abbiamo 12 camere totali, una villa con 7 suite e 5 chalet. 5 chalet molto belli e molto indipendenti. La struttura dispone di un bellissimo ristorante con vista panoramica, un bar americano con terrazza panoramica, una cucina vista, una pasticceria vista, una champagneria esterna dove è possibile prendere champagne di prima linea con cruditè di pesce, caviale, che serve sia la piscina esterna che tutte le zone della ristorazione. Sono due bar che si alternano a seconda delle esigenze del cliente. Più avanti abbiamo visto il nostro ristorante e subito dopo una sala colazioni che adibiamo anche a sala congressi per piccoli meeting o a sala banchetti per pranzi o cene private. Quindi abbiamo la possibilità di offrire questo tipo di servizio ai clienti. Giù piscina interna e esterna geotermica, quindi con riscaldamento parzialmente contribuito dal sottosuolo, una bella spa di 300 metri quadrati con due saune, un bagno turco, docce emozionali, fontana di ghiaccio, doccia scozzese e una palestra tecnogym. Questo è quello che offriamo di base alla clientela, oltre chiaramente tutta una serie di attività. Neve, acqua, lago e arte, Bergamo. Quindi diciamo poi, puntiamo tantissimo anche sul territorio, non soltanto su quello che offre l'hotel, ma anche su quello che offre la destinazione per far divertire i clienti. Nel 2024 l'Accademia dello Sport per la solidarietà di Bergamo sarà in prima linea nella lotta contro i tumori. Garantirà cure chemioterapiche proprio in città per una sessantina di pazienti dalla Clinica San Francesco. Giovanni Licini si sta concludendo un altro anno importante per questa Accademia che ha aperto i suoi orizzonti a tantissime tematiche, sempre vicina al territorio, vicina anche alle problematiche, in questo caso vicina alle persone malate e alla prevenzione dei tumori. Allora, il 2020 test è chiuso con un importante aiuto a tre associazioni. Abbiamo donato una parte di un'ambulanza, la procedura Basso Sebino, un mezzo di trasporto per gli valli civili amnice e un mezzo di trasporto per i ragazzi down. Fine stagione, fine attività 2023 abbiamo fatto una campagna di prevenzione per i tumori a seno. Con la SST Bergamo Esti, il dottor, il senologo dottor Gervasi e soprattutto con il centro di radiologia e fisioterapia di Gorle, abbiamo fatto la convenzione per far sì che tutti i nostri amici sponsor fanno un regalo di Natale alle loro donne, alle loro colleghe, alle loro imprenditrici, eccetera, in modo che le portino a fare un esame di prevenzione, una ecografia dei 25-40 anni e una mammografia dei 40-45 anni. Dopodiché interviene in Regione Lombardia per fare gli screening tumorali. Altra iniziativa importante, purtroppo i tumori, non so se il nostro territorio è stato segnato dal Covid, da altre patologie, però i tumori sono aumentati porosamente e la cura del tumore è la chemioterapia. Papa Giovanni scoppiava, non aveva più la possibilità di eseguire queste cure, ha fatto una convenzione con la San Francesco sotto la cura del dottor Quadri Antonello che era già primario dei riuniti, creeremo 12 linee di chemioterapia e pertanto circa 60 persone che hanno il testo di queste cure potranno, anziché andare fuori dalla provincia, potranno effettuare queste cure urgenti sul territorio. Si sta lavorando già al 2024 con questo tema importante e guardando poi gli appuntamenti del prossimo anno. Abbiamo fatto una riunione con tutti i nostri volontari, i volontari diventano sempre più vecchi compresi sottoscritto, le forze a volte vengono meno, abbiamo avuto bisogno di gente con vigore nuovo, sono entrati nuovi volontari, pertanto ricomincieremo a organizzare sia le gare di golf che le gare di tennis. Abbiamo già definito i Golden VIP del 2024 che sono una vetrina di chi ha fatto grande Bergamo o il territorio italiano in questi ultimi anni. Abbiamo definito per quanto riguarda lo sport il primo Gianni Luciano Dardici a Scalvini che dopo i giovanini dell'Atalanta è andato in prima squadra, adesso i colori nazionali difenderanno i prossimi europei. Claudio Bombardieri un imprenditore della chimica importantissimo sul territorio nazionale e per ultimo ma non ultimo il ministro dell'economia Giorgetti che è da anni che è vicino all'Accademia e non perde mai l'occasione di aiutare sia il nostro movimento che la nostra provincia. Ci spostiamo ora a Villa di Serio dove Villa Carrara ospiterà fino all'Epifania la mostra dei presepi nella quale spicca quello dei ragazzi delle scuole medie che hanno voluto lanciare un messaggio di pace riguardo alla situazione che si sta vivendo in Palestina. Ciao io sono Micol e io sono Mirea e siamo qua per raccontarvi come abbiamo fatto il nostro presepe come seconde della scuola secondaria di Villa di Serio. Allora abbiamo ambientato il nostro presepe in Israele, nelle terre di Israele perché sono le terre dove è nato Gesù ma dove tutt'oggi purtroppo ci sono moltissime guerre e questo è il nostro modo per stare vicino al popolo israeliano e per chiedere diciamo la pace in tutto il mondo. Infatti in questo presepe abbiamo installato un muro da cui si affacciano tre nostri coetanei che vivono la guerra ogni giorno ma da questa finestrella possono vedere una nuova luce o una nuova rinascita che porta il nostro presepe. Ciao a tutti io sono Gaia, io sono della seconda G e lei è della seconda E. Io sono Chiara e sono della seconda E e anche noi oggi vogliamo parlare del nostro presepe la scuola. Come materiali siamo andati in area ecologica e abbiamo preso del poristirolo, poi l'abbiamo ritagliato e per colorarlo abbiamo usato tempere e varie stoffe. In questo presepio abbiamo deciso di tenere i colori cardi dell'ambiente quindi di rappresentare un po' la siccità che c'è in quelle zone però abbiamo deciso di mixare un po' con il nostro territorio quindi magari aggiungendo del muschio per rappresentare noi che siamo più vicini a questi territori purtroppo in guerra. Ciao io sono Francesco della seconda G. Io sono Michele della seconda E. Il nostro presepio con il pavimento è stato realizzato con vari semi per esempio di farro, di orzo, di riso per rappresentare le varie popolazioni per esempio musulmani, ebrei e cristiani che tutti si devono unire per questa nascita di Cristo. Inoltre abbiamo utilizzato anche il muschio come è già stato detto prima e abbiamo raffigurato delle cupole diverse da quelle che ci sono in Israele per renderlo anche nostro. Ciao io sono Chiara e sono della seconda F. Io sono Andrea della seconda G. Nel presepe abbiamo lavorato con le professoresse di arte Carollo e Masseroli e anche con la professoressa di tecnica Paganoni. Con la professoresse Carollo e Masseroli ci siamo occupati più che altro della parte artistica per cui abbiamo disegnato, abbiamo colorato con le tempere e ci siamo occupati degli ultimi ritocchi. Mentre con la prof. Paganoni di tecnica ci siamo occupati di ritagliare il polistirolo e costruire le fondamenta del nostro presepe. Sono Elisa Bozza, referente della scuola secondaria di Villa di Serio. Abbiamo lavorato con questi ragazzi delle classe seconde della nostra scuola e abbiamo sentito qualche rappresentante per classe. Hanno esposto benissimo questo lavoro del presepe e si sono messi in gioco per realizzare concretamente un lavoro per sentirsi più vicini alle popolazioni in guerra, in generale di tutte le guerre e nello specifico nella guerra relativa a Israele in questo momento. Hanno lavorato molto bene, è stato un lavoro importante che li ha visti i protagonisti e tutto questo tipo di attività pratiche concrete li aiutano a crescere anche come cittadini sia nello specifico di Villa di Serio ma in generale cittadini del mondo. Sì anche quest'anno abbiamo organizzato questa mostra di presepi che è ormai una consuetudine da parecchi anni. Abbiamo invitato i ragazzi della scuola secondaria, l'anno scorso avevamo coinvolto i ragazzi della scuola primaria nella realizzazione di un presepio, un bellissimo presepio da un significato molto importante come hanno presentato i ragazzi. Nella nostra mostra sono esposti poi una ventina di altri presepi, sono tutti presepi nuovi che provengono da varie zone della provincia. A Villa di Serio c'è un gruppo di cittadini appassionati nella realizzazione dei presepi e tutti gli anni si cimentano in nuove esperienze e raccolgono anche presepi provenienti dalle varie zone. Anche quest'anno è stato realizzato un piccolo plastico della Villa Carrara visto che è stato l'anno in cui c'è stata la ristrutturazione e il restauro di alcune parti della Villa e all'interno di questo plastico è stato posto un piccolo presepio. Sicuramente anche l'invito dell'amministrazione è proprio quello di lanciare un messaggio di pace e di divenire ciascuno di noi un portatore di pace. Edith Piaf è considerata da molti la più grande cantautrice francese di tutti i tempi. All'autrice della Via Rosa sarà dedicato nei prossimi giorni un concerto omaggio a Bratto, che vedrà protagonista Manuela Migliorati, cantante di D'Orga, che abita in Francia. Un concerto omaggio a Edith Piaf venerdì 5 gennaio alle 21 all'hotel Milano di Bratto. Si esibirà Manuela Migliorati che è di D'Orga ma vive in Francia e ha avviato un progetto dedicato proprio a Edith Piaf. Parlaci di questo progetto. Sì, allora, il progetto nasce in realtà da un colpo di fulmine che ebbi con la musica di Edith Piaf durante la pandemia, quando mi ritrovai a dover sostituire una collega che si era ammalata di Covid e che avrebbe dovuto cantare un pezzo di Edith Piaf. Da questo colpo di fulmine nacque la mia volontà di saperne di più su questa musica, di scoprire queste bellissime canzoni. Quindi ho lavorato per parecchio tempo e ci sto lavorando ancora su un repertorio che va sempre ampliandosi perché sono una più bella dell'altra. E da qui appunto è nato questo progetto che si chiama Ansore Edith e che ha l'obiettivo di portare la musica di Edith Piaf dalla strada ai bar, ai teatri, case di riposo, eccetera. Cioè in qualsiasi ambiente si possa cantare per far riscoprire questa musica a chi già la conosce e dà voglia di riascoltarla e di farla scoprire invece a chi non la conosce. Quindi questo è il mio progetto. Quest'anno ho cantato soprattutto in Francia tra la Lorena, l'Alsazia e la Normandia e adesso appunto per la prima volta con grande emozione torno nel mio paese d'origine appunto Castione della Presolana per portare questo concerto anche qui perché sono sicura che anche gli italiani apprezzeranno questa musica francese dei pochi. Quindi abbiamo detto questo concerto adesso a Bratto, come si partecipa? Allora l'appuntamento è venerdì 5 gennaio alle ore 21 all'hotel Milano di Bratto, Sala dei Pini. L'entrata è gratuita quindi ne vale assolutamente la pena ma l'iscrizione è obbligatoria secondo varie modalità o registrandosi via mail sul sito dell'Alpenspa oppure scrivendo all'indirizzo mail onseoreditschiocciolagmail.com oppure chiamando il numero che vedete in sua rimpressione. Se capitate in qualche negozio o bar per le vie di Castione, Clusone eccetera e vedete queste locandine potete anche scannerizzare il codice QR che vi porta direttamente sul sito dell'Alpenspa dove effettuare la registrazione è tutto molto semplice basta inserire nome, cognome, email e sarete registrati. Vi aspettiamo e siamo molto contenti di condividere con voi questo momento musicale. Cambiamo argomento primo appuntamento del 2024 con la rubrica Il sasso nello stagno in onda dopo il TG sarà una puntata dedicata ai buoni propositi per il nuovo anno sentiamo Tony Tranquillo nell'anteprima Non ci si scappa è il nostro classico appuntamento di inizio anno con il sasso nello stagno quello in cui chiediamo alle persone che incontriamo per strada il consultivo dell'anno precedente in questo caso il 2023 come è andato se è stato un anno positivo o negativo e con un occhio ovviamente al 2024 appena iniziato questa è la domanda di questo appuntamento con il sasso nello stagno voti all'anno andato e speranze per l'anno nuovo adesso un'intervista in anteprima E com'è andato il 2023? Dai bene Se dici bene vuol dire che c'è stato qualcosa di positivo sicuramente Sì, beh, sì ho preso casa quindi Ah, da sola quindi hai abbandonato I genitori E questa è soddisfazione Esattamente Per l'anno prossimo? Eh, vediamo Sei giovanissima quindi i buoni propositi, gli obiettivi ci devono essere Beh, quello sì sicuramente obiettivi lavorativi sempre e poi nel 24 mi sposo E beh, come non avessi detto nulla Da quanto lo stavi aspettando questo dato, questo appuntamento? Da un pochino per arrivare E beh, prima obiettivi lavorativi e case e poi matrimonio Benissimo, per quando la data? Maggio, il 6 maggio Perfetto Sei già con la testa lì allora Sì, esatto Quindi sarà un anno eccezionale Grazie Auguri, buon anno Buon anno a voi Domani mercoledì 3 gennaio alle 20.30 su Antenna 2 va in onda la commedia dialettale L'Eretec della compagnia del Fil de Fer con repliche venerdì 5 gennaio alle 23 e domenica 7 gennaio alle 16 Vediamo l'anteprima Tema, a proposito, ma sono desmentata di dire yeah, che mi ami a riata capì e ti metti di fare un po' di? Dalla, adatta o il mio lui al run fa gottano ma il riata di gran pensate per fare farsi e che so mia li ha da capì cos'è il via questo che calvozano sono so fortunata ai miei nomi che arruncano lezze ma ma diolte al bramere spalmina sento, sento betta che tu hai appena fatto la più mignone ma sa bramere cos'è niente ma dolce mia che è la botteca che tu chiedi e questo è una botteca ma te! scusate me dai miei occhi dito i piedi per una piaccia proprio mia a tu se sarei mi offendita a me? scusate me botteca proprio dai miei occhi dito che mi piace mia a me a me senza marito allora senza marito la sarà mia creanza a darmi spuzzi ma che? a sua piatta sorella ma la piccola qui parla un po' a tommi fino a farci un po' e poi lo mero qui adesso però che ho dedicato proprio a due occhi a sé appena mi è fatto la messa che ho accontato la stupidità in una piazza tu hai fatto te eh chi cresce еше in piazza chiede salvare galga un'altra quintale che vede sca ve Polonerie del paliz veniamo dai programmi della serata su Antenne 2 alle 20.40 la rubrica il sasso nello stagno Alle 21.30 Antenna 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del Tg, alle 23.05 a tutta C, a mezzanotte 30 la terza edizione del Tg di Antenna 2. La Manaco del Giorno domani mercoledì 3 gennaio, il sole sorge alle 7.56 e tramonta alle 16.53. La luna all'ultimo quarto sorge alle 23.21 e tramonta alle 11.47, la chiesa celebra San Genoveffa. E con questo è tutto, dopo il Tg andrà in onda le previsioni del tempo. A tutti voi una buona serata.